camminando lungo un viale di città del capo mi accorsi con gioia che il marciapiede era disseminato di grosse ghiande quando nessuno mi vedeva le calciavo con la punta del piede come facevo 60 anni prima per il piacere di vederle rimbalzare e ruzzolare lungo il viale nessuno si aspetta un comportamento così puerile da un uomo coi capelli bianchi perciò stavo attento a non farmi notare quasi al termine del filare di querce vedi un altro vecchio signore che camminava lentamente sul marciapiede opposto poi notai che si fermava ogni pochi metri si appoggiava al bastone e pestava il tacco sul marciapiede non mi aveva visto e avvicinatomi scoprì che schiacciava ghiande si accorse di me ed esitò vergognandosi di essere stato sorpreso a giocare con le ghiande ma io diedi un calcione a una ghianda mi piace prenderle a calci dissi lui ridacchiò e a me piace schiacciarle mi piace il rumore che fanno disse due vecchi per di tempo una seconda infanzia può darsi ma se le ghiande ci facevano sentire ancora ragazzi perché no dopo tutto si è giovani soltanto due volte